Musica Amici di Sardinia 1, bentornati a Cogliocchi di Fido. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, l'ansia da separazione. L'ansia da separazione è uno di quei problemi comportamentali che sono abbastanza diffusi soprattutto nei cani che stanno in città a stretto contatto con il proprietario. Questo deriva da diversi fattori. Alcuni di questi, almeno i fondamentali, sono uno può essere un fattore ereditario. Il cane ha delle insicurezze che ha acquisito in quanto genetiche. Il carattere del cane, in questo caso dal punto di vista genetico, viene trasmesso e non è modificabile come nel caso dell'aspetto. Il secondo lato può essere una mancata gestione di leadership da parte del proprietario, quindi il cane pensa di possedere il proprietario. Un altro dei fattori è una errata gestione dei tempi, in questo caso, sia dell'affettività sia del lasciare solo il cane, che non sono strettamente legati alla gerafia, come a volte si pensa. Questi fattori generici possono portare a quella che è l'ansia da separazione, ma fondamentalmente in cosa si traduce in pratica? Manie distruttive, avete presente le ciabatte distrutte, uscite, i mobili sono distrutti, oppure il vicino che vi chiama perché il cane abbaia in modo incessante, oppure in casi più gravi possono essere il cane non mangia, addirittura arriva a non bere, o nelle manifestazioni dove c'è la massima esplosione e diventa in questo caso non più un problema comportamentale, ma una patologia comportamentale, si arriva all'anorressia e all'autolesione. Stefano, sentendo di parlare, mi è venuta in mente una domanda. Potrebbe essere che il primo argomento, quindi quello relativo al cane dal punto di vista genetico, questa ansia di separazione, sia anche legata alla separazione che il cucciolo ha avuto dall'allontanamento con la mamma? Diciamo che la domanda mi ha ricordato una delle cause dell'ansia di separazione, che è l'abbandono subito, ma non la separazione dalla madre o dai fratelli, bensì quando il cane va a stare con un nucleo familiare e poi viene abbandonato. Quindi potrebbe andare in un canile o cambiare famiglia. Quella situazione può destabilizzarlo da un punto di vista affettivo e in quel caso l'abbandono subito è una delle cause di ansia di separazione. Il fattore genetico non è insito nel DNA del cane, quindi al di là delle esperienze che il cane fa, ha insito un'insicurezza dal punto di vista caratteriale. Ha delle tere genetiche perché magari non ha un equilibrio nervoso particolarmente solido. Ha una tempra scarsa. La tempra che cos'è? è la capacità del cane di reagire a degli eventi negativi sia dal punto di vista psichico che dal punto di vista fisico. Quindi questa è la capacità di reazione e di sopportazione. Quindi significa che un evento negativo forte, un cane di tempra forte, non solo si dimenticherà velocemente di quell'evento, ma avrà dei tempi di reazione all'evento molto rapidi. Ma staccare il cucciolo per esempio a 20 giorni, influenza comunque, potrebbe influenzare? Può influenzare perché in quel caso è sempre una questione di gestione. Se c'è una persona esperta che gestisce il cane, lui riuscirà, ed è difficile, a sostituire la madre. Non riuscendo a sostituire la madre e non dettando i tempi dell'affettività, si manifesta in quel caso l'ansia e la separazione. Infatti alcuni cuccioli non hanno solo questi problemi tolti prima dei 60 giorni dalla madre, spesso hanno diversi problemi comportamentali, perché le persone non li trattano da cani e creano tutta una serie di situazioni che derivano dalla mancanza di regole, dalla mancanza proprio di dettare i tempi dell'affettività che la madre in quel periodo dà al cucciolo, quello di cui abbiamo parlato già altre volte, parlando anche dei metodi educativi. Abbiamo visto in trasmissione, nella nostra rubrica qualche volta, il mio cane Tito. Volevo chiedere al nostro esperto, a Stefano, quando io rientro a casa, Tito ha un atteggiamento molto ansioso, mi lecca, proprio molto agitato. Questo potrebbe essere, secondo il punto 2 di cui tu mi hai parlato adesso, quindi non hai individuato a me come leadership, quindi è possessivo nei miei confronti, questo potrebbe essere un caso? Allora, questo è lo spunto per dare anche una risposta. I problemi comportamentali, possono essere l'ansia da separazione, la mancanza di leadership, diciamo non si possono dare delle risposte dirette, guarda è questo, anzitutto va visto il cane, va analizzata la situazione, dopodiché si decide di fare un percorso. Quello che una persona racconta, per esperienza, è quello che la persona vede, ma in realtà un esperto che vede la situazione dall'esterno riesce a percepire delle sfumature, perché non è una cosa così schematica, mancanza di leadership, ansia, oppure la mancanza di leadership il cane miriglia. L'ossio non ci sono, lui non mangia, non beve, quindi ho notato che tutti questi esempi che tu hai appena trattato corrispondono. Il morossoide è molto legato alla persona, sicuramente il cane quando la possibilità ti segue sta sempre appiccicato a te, e quindi comunque la possessività è una caratteristica del morosso. Quindi è intrinseca anche qui nel morosso. Quindi è intrinseca nel cane, è intrinseca nel morosso. Va poi capito il perché di questo comportamento, ma in un contesto più ampio, che riguarda una sfera strettamente personale del conduttore e della persona, perciò non se ne può parlare in tv. Sicuramente i consigli che io posso dare sono i consigli classici che trovate su internet, sulle riviste, e sono quelle del distacco, quando si va via, cioè io consiglio di dare un ordine che può essere arresta, che può essere fada guardia, quello che volete voi, e andate via, tanto quando andate a lavoro avete sempre gli stessi vestiti, quando uscite bene o male il vostro atteggiamento è sempre quello, e quando rientrate massimo distacco, cioè vi cambiate, vi sistemate, poi prendete il cane, come se non fosse successo nulla e andate via. Io comunque quando vado via gli dico sempre, ci vediamo dopo, e lui si rilassa. Esatto, bastano questi atteggiamenti. Per il resto, credo che poi è una cosa che va approfondita in un altro contesto. E se non è un'altra cosa che va approfondita in un altro contesto, Samba Oh Oh Ah Oh 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 Grazie.